Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Qualcuno di voi ha mai fatto danza? Io so fare il cia cia cia. Tu hai fatto il cia cia cia? Lo faccio con mia nonna. Vieni qua sopra. Non ho una balla, la balla latinoamericana. Non so se balli qua. Il zabbaro. Col sinistro, Guglielmo questo. Sinistro, destro. Cia cia cia. Destro, sinistro. Va bene, Guglielmo, dobbiamo fare ripetizioni. Vabbè, questo però. Mi nonna dice che non è scordinata, non ci balla. E fa niente, non ci fa Gidò. Passo indietro, torno avanti. Oggi però niente cia cia cia. Il genere scelto da Raimondo è il jive. Raimondo spiega bene e poi mette molta sicurezza. 5, 6, 7, 8, 1, 2, chassé. 5, 6, tatatà. 1, 2, tatatà. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sembra che sto parlando di pomodori. 5, 6, 7, 8. Metti, vieni qua. È il momento di provare a coppie. Enrico, vieni qua. Diego, vieni qua. E Raimondo scopre che le scelte dei partner non sono così casuali. Perché fai così? Sono migliori amici? Sì, per te. Amici con benefici. Non so di cosa stiamo parlando. Non parlo di assenza di un avvocato. 5, 6, 7, 8. Uno di qua. 1, 2, 3. Ma siamo coordinati? L'italiano americano? Siamo sulla stessa strada, però abbiamo avresti incroci diversi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gira. 1, 2, 3, 4. E così via. No, io mi perdi io. Non mi perdi. Io preferisco ballare reggaeton perché è più animato e divertito. In realtà a me sembra che vi stiate divertendo tutti quanti. Soprattutto chi ha la fortuna di ballare con dei partner d'eccezione. Passi vicini. Oh mamma che uomo galante. Mi sento un po' rigida signorina. E io mi sento un po' innamorata. Sweet sugar candy man.